I numeri parlano di un più 30% sia nelle degustazioni a pagamento sia per i partecipanti ai convegni, ma alcuni villaggi dei primi hanno registrato un aumento di presenze del 150%. La diciannovesima edizione dei primi d'Italia a Foligno chiude dopo tre giorni di festa nel centro storico della città con il sapore del successo. La kermesse dedicata alla pasta, il piatto per eccellenza della cucina italiana, è firmata da Eptacomf Commercio Vince e Convince. Oltre 400 ricette presentate, 13 villaggi straripanti di commensali, 18.000 kg di pasta cucinati, oltre 10.000 kg di pesce, 5.000 kg di gnocchi, 3.000 kg di riso e più di 150.000 di degustazioni. I primi d'Italia Junior ha registrato il tutto esaurito con ben 420 prenotazioni arrivate già prima dell'inizio delle manifestazioni. Gli alberghi di Foligno hanno registrato il tutto esaurito, tra le tante novità, il villaggio della cucina ebraica ha registrato grandissimi consensi e tantissime presenze. Il villaggio ha portato all'internazionalizzazione delle festival insieme alla presenza di Michael Toscano dagli Stati Uniti per il pranzo conclusivo di A Tavola con le stelle. Ottimi risultati per tutti i villaggi, in particolare per quelli delle eccellenze siciliane, delle erbette selvatiche, del riso e dei primi di mare, questo curato da otto ristoratori di Porto Sant'Elpidio. Tanto entusiasmo per tutti gli appuntamenti di A Tavola con le stelle, che ha visto la presenza di chef stellati come Gianfranco Vissani, Daniele Usai e Sandro Serva. Dopo quattro giorni ricchi di eventi, ha commentato il presidente di Commercio Aldo Amoni, tiriamo le somme di questa diciannovesima edizione. Sono state giornate incredibili, informative, divertenti e straordinariamente gustose, ma questo è solo un nuovo punto di partenza in vista della ventesima edizione. Sto già studiando le novità, ne ho ricevuto da varie aziende, anche molto importanti, dei settori pasta e Zuppe, la richiesta di partecipare all'evento con villaggi propri. La prossima edizione sarà ancora più incredibile. Appuntamento a Foligno dal 27 al 30 settembre 2018.